Raggiunto l'accordo quadro per sbloccare la contrattazione nel pubblico impiego, CGL e CISL e Will hanno firmato l'intesa con il governo, ottenuti 85 euro di aumento e incentivi legati alla produttività e alle presenze. Nuove regole per nuovi contratti e il cambio di passo che la CISL voleva dare e che è stato ottenuto grazie alla mobilitazione coraggiosa e determinata di milioni di lavoratori pubblici. È stato firmato un accordo sul pubblico impiego per una nuova stagione dei servizi pubblici con i lavoratori e per i cittadini. L'accordo apre una strada nuova e impegnativa verso il riconoscimento professionale dei lavoratori pubblici e verso il rinnovo di contratto con risorse per tutti da aumentare nella contrattazione di posto di lavoro. L'accordo sancisce inoltre un'altra grande conquista, saranno superate fasce e pagelle e sarà data voce ai lavoratori nella riforma della pubblica amministrazione. Si apre così la strada al welfare aziendale, alla decontribuzione dei premi di produttività e l'incentivo alla previdenza complementare anche nel pubblico impiego.